Oggi Uomini e Donne non è andato in onda per la festività del 25 aprile, ma domani il pubblico assisterà ad un'altra puntata del Trono Over. Episodio molto movimentato che avrà protagonista Sossio Aruta e la sua conoscenza con Ursula oltre a nuovi scontri con Chiara. Ma è proprio Sossio che, nelle ultime settimane, è al centro di grosse polemiche da parte del pubblico, causate dal comportamento che ha con le Deim. Basta girare sulle pagine dedicate a Uomini e Donne per leggere commenti come, Mi meraviglio che sanno che Sossio fa il provolone con tutte, e ancora vanno a corteggiare sto falsone. Punto Sossio fa la stessa identica cosa con tutte perché a lui di queste donne senza dignità, non gliene frega una mazza. A Sossio interessano le telecamere e la popolarità. Aggiornamento di Anna Montesano Il Trono Over di Uomini e Donne va in onda domani e oggi rimarrà in panchina per via del 25 aprile e questo significa che per vedere Gemma Galgani e i suoi dovremo ancora attendere. Per fortuna dei fan i protagonisti sono spesso sui social e questo significa che, bene o male, riescono sempre a rimanere in contatto tra una messa in onda e un'altra. La più attiva rimane come sempre Gemma Galgani che in questo giorno di memoria e ricordi indelebili, ha una persona da ricordare, una donna che ha saputo combattere una battaglia lunga e dolorosa e che ha lasciato tre giovani donne in balia del suo amore e del suo ricordo. Pubblicando il video che potete vedere cliccando qui, Gemma scrive, oggi il mio sarà un lungo messaggio perché insieme a tutti i morti per la resistenza, ci sei anche tu mamma Rosina che hai avuto la resistenza di volerti opporre ad un male invincibile. Hai lottato affrontando un'operazione sperimentale sopportata con grande coraggio e dignità, per aiutare la scienza ed anche per regalarci qualche giorno in più, troppo pochi per averti perduta così presto. Non ci sono età per piangere la perdita dei propri genitori. Ma l'abbraccio di una mamma è unico. Troverà mai pace questa donna? I fan sperano di sì e si stringono intorno a lei anche in questo doloroso giorno. È da Hopper. Uomini e donne sta perdendo colpi, o almeno è questa l'opinione di molti telespettatori dello show di Canale 5. Quello che molti lamentano è il comportamento di Tina Cipollari e il sopravvento che l'opinionista sta prendendo sia nel trono classico che nel trono over. Prima opinionista, poi tronista e, per tanti, sempre protagonista di scena poco piacevoli e spesso addirittura volgari e da evitare in tv. Ad attaccarla sono però anche ex volti del trono over che, intervistati per il settimanale Nuovo TV, dicono la loro su questo cambio di rotta della cipollaria a uomini e donne. La prima è Paola Pinto, nota per il flirt avuto con Giorgio Manetti. L'ex dama, Suttina Tronista, dichiara, è una decisione ridicola. La presenza della cipollaria è sempre più ingombrante e gli altri non hanno più spazio. Della stessa opinione è Marco Bianca, ex cavaliere del trono over di uomini e donne, che ammette, la cipollaria è fuori luogo nelle vesti di tronista. Secondo me dovrebbe continuare a fare il suo mestiere, cioè l'opinionista. Perché se è vero che gli show della cipollaria assicurino sempre ottimi ascolti alla De Filippi, Per Bianca è comunque vero che, così il programma sta perdendo il focus. L'obiettivo dovrebbe essere quello di formare nuove coppie. Un'idea condivisa anche da molti telespettatori di uomini e donne. L'ex cavaliere, infatti, conclude, Ora invece assistiamo a Becerit e Tarini che minano la credibilità della trasmissione. Se si vuole impostare il programma sullo spettacolo, va benissimo. Basta che non si prendano in giro gli altri protagonisti, che sono utilizzati come carne da macello.